Benvenuti sul canale, oggi siamo sulla Colle del Turinie a Monte Carlo a bordo della Skoda Fabia, quella guidata dal grandissimo Colle McCree. Sì. E andiamo a vedere subito come si comporta quest'auto su neve, asfalto e ghiaccio. Noteremo le differenze che ci possono essere con la Citroen C4 che abbiamo provato nel scorso episodio. Iniziamo subito. Una bella giornata di sole per correre il nostro rally. Non so se conoscete il Colle del Turinie, io l'ho fatto veramente, è una strada veramente impegnativa e tecnica. Allora, spinge meno che la Citroen C4 si sente subito, le marce un po' più corte. Però sembra anche più stabile, eh. Meno sottosterzo, sovrasterzo. Fa via tutto insieme, ecco. Si scompone meno. Molto più pulita, sì, sì. Si che il fondo è anche più asciutto, eh. Non ci sono quei tratti di neve. Strada, ragazzi, bellissima. 30, 4 destra, stringe, in 3 sinistra lunga, in 3 destra, 30, 4 sinistra, in 1 destra lunga, apre, in 3 sinistra molto lunga, 60. 4 destra lunga, apre, sovrinale, 30. 4 destra, in 3 sinistra molto lunga, stringe 2 lunga. In 4 destra lunga, 30, 4 sinistra, in 4 destra lunga, tieni la sinistra su 50, attenzione, 6 destra, 5 sinistra molto lunga, 5 sinistra molto lunga, 5 sinistra molto lunga. Dio una stabilità impressionante. Ok, però adesso la proviamo che arriva un po' di neve, eh, stanno salendo di quota. Eh, raga, ho fatto il dritto. Ho anche i danni attivi, quindi... Tieni la destra su 50, su crinale, 6 sinistra, in 4 destra, in 4 sinistra, in 4 sinistra, e 3 destra, e 2 sinistra lunga. Qua c'è un po' di neve, occio, occio. Eh, vabbè, mi frega, mi frega, mi frega. 30, 3 sinistra lunga, 30, 2 destra lunga, stringe, in 3 sinistra lunga, apre su crinale, 120. Tieni la sinistra su 30, 6 destra, su crinale, molto lunga, stringe, 5. 80, 3 sinistra, in 4 sinistra, in 4 sinistra, in 4 sinistra, stringe, su crinale. Troppo bella sta tappa, ragazzi. 5 destra, in 4 sinistra, lunga, stringe, in tornante a fermo, non visto destra. La riporto con un'altra auto. Quasi, quasi. Con la grandissima... ... 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 E quattro destra In cinque sinistra In due destra lunga Apre 30 No, no, no Queste parti Di misto neve Che asfalto, ragazzi Tre destra lunga Apre su crinale In quattro sinistra Molto lunga Apre su crinale 50 Tre sinistra lunga Ralletta 50 Tornante aperto Non visto destra Inizia a nevicare Tieni la sinistra Su 50 Quattro destra Inizia a nevicare C'è il suol Tieni la sinistra Su 30 Cinque destra Su crinale Apre 50 Due sinistra lunga Apre 6 Molto molto lunga Su crinale 30 40 Quattro destra In sei sinistra 30 Attenzione Quattro destra Quattro sinistra Molto molto lunga Stringe su crinale Ralletta 20 Tornante aperto Non visto sinistra 50 Quattro destra Su crinale Molto lunga Ragazzi In cinque sinistra Su crinale Ralletta 80 Adesso Ancora di più Molto più simulativo 50 Tieni il centro Su crinale In sei sinistra Molto lunga Stringe quattro In Attenzione Quattro destra Quattro sinistra Lunga 50 Sei destra Molto lunga Ralletta 30 Tornante Non visto sinistra Salita 60 Sei sinistra Su crinale Lunga In ralletta Sei destra Lunga Su crinale Stringe Tornante Aperto Destra 50 Cinque sinistra Lunga 30 Cinque destra Sei sinistra 30 Quattro destra Lunga Apre 30 Sei destra 30 Quattro sinistra Stringe 30 Quattro destra Lunga Apre Su crinale In tre sinistra Molto lunga Su crinale In quattro destra Lunga Stringe 30 Tre sinistra Lunga In quattro destra Lunga In quattro sinistra Lunga Su crinale In cinque Destra Lunga In sei sinistra 30 Due destra Stringe 30 Su traguardo Quattro sinistra Allo stop Bellissimo Bellissimo È fatto Dai Nel prossimo episodio Vi porto la Opel Manta Su questo stesso tracciato Che è veramente Bellissimo Quindi ci vi aspetto Nel prossimo episodio Ciao belli Buongiorno 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 Buongiorno